Sì di notte, 15.74, di Trenitalia, delle ore 16.27, proveniente da Reggio Navarria, il centro di Montaigne. Attenzione, ma non manassi dalla linea gialla. La prima classe è al centro del treno, su questo treno è disponibile il servizio letto e facente. Annuncio ritardo, il treno a livello alta velocità, 99.28, delle ore 16.15, proveniente da Napoli centrale, arriverà con un ritardo previsto di 15 minuti. Your attention please. The ethno-price-made train, 99.28, from Napoli-Central, the schedule to arrive at 16.15, is expected to arrive in deep distillate. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti